11 maggio 2023 lancio del progetto di volontariato di imprese di competenza Roche torna a farsi in quattro che nel corso di questi mesi ha coinvolto oltre 560 colleghi Roche come volontario ambassador in iniziative a favore di quattro associazioni Casa Amica, Pizz Out, Lega Ambiente e Lilt Ora ripercorriamo insieme le diverse iniziative e attività che ci hanno accompagnato durante il 2023 a supporto di queste realtà Il volontariato di competenza in partnership con Casa Amica Onlus impegnata nell'accoglienza dei pazienti e dei loro familiari in difficoltà che devono soggiornare lontano da casa per accedere ai percorsi di cura è stato il kick-off dell'iniziativa Roche torna a farsi in quattro 33 colleghi hanno messo a disposizione le proprie competenze nell'ambito della formazione in area tecnico-scientifica nella comunicazione digital e per collaborare nelle attività ludiche rivolte ai piccoli pazienti dell'associazione Nell'ambito del volontariato d'impresa, 350 colleghi si sono messi al servizio del sogno di Pizz Out laboratorio di inclusione sociale che offre lavoro, formazione e dignità professionale alle persone affette da autismo Un sogno di collaborazione, di inclusione e anche di sperimentazione e innovazione che abbiamo voluto supportare con un'attività di volontariato volta a sostenere l'apertura del nuovo locale di Monza che si è aggiunto lo scorso aprile a quello storico di Cassina dei Pecchi Come? Attraverso la realizzazione di gadget solidali In occasione della giornata mondiale dell'ambiente lo scorso 6 giugno, a fianco di Lega Ambiente impegnata nella tutela dell'ambiente in tutte le sue forme 100 colleghi hanno aderito ad una delle maggiori campagne internazionali di volontariato dedicata a pulire parchi, giardini, strade, piazze e spiagge Al rientro della pausa estiva, 80 colleghi hanno continuato a testimoniare il nostro senso di responsabilità verso l'intera comunità attraverso una serie di attività che ci hanno visto a fianco di Lilt La Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori impegnata nel promuovere la prevenzione primaria la diagnosi precoce la ricerca clinica e l'assistenza in ambito oncologico a tutti i colleghi volontari e ambassador grazie